Le parole di Renzi inducono all'ottimismo ma sono anche parole di autocritica. C'è un partito democratico che deve recuperare la sua identità, deve tornare ad essere soprattutto il partito del lavoro. Assolutamente sì, c'è la necessità in questo partito di mettere le cose in chiaro. Penso che con la vittoria di Matteo Renzi sicuramente si creeranno le condizioni per un partito veramente democratico. Un partito che non continua a parlarsi addosso con le solide tribi interne ma che parli alla gente, così come sta facendo Matteo, dicendo le cose che i cittadini vivono quotidianamente. È mancato solo questo quando nelle scorse elezioni si pensava che il partito democratico a Napoli spaccasse tutto e invece poi si è rivelata una sconfitta qui in Campania. Ma guardi, il problema del partito democratico a volte, l'ha detto anche Renzi poco fa, Noi spesso, anche le competizioni che facciamo al nostro interno, spesso sono competizioni in cui individuiamo il nostro avversario come un nemico. Non è quello, il nemico vero non sta all'interno del partito democratico ma sta al di fuori del partito democratico. A volte ci logoriamo inutilmente e quindi si perde quella forza di impatto con i cittadini. I cittadini sono anche stufi delle tante promesse di questi anni e anche di una classe dirigente che, diciamoci la verità, ha perso qualche battaglia. Il Parlamento corrotto c'è stato l'esempio dei Simpson che Renzi ha fatto vedere, è arrivata come battuta in America, quasi un luogo comune. La campagna non è da meno quando le inchieste rimborsopoli hanno toccato il Consiglio regionale, c'è da rivedere un po' tutto? C'è assolutamente da rivedere tutto, il problema è serio. L'immagine che diamo all'esterno, ormai è un dato assodato, quello che è accaduto nelle regioni sicuramente è un dato che va assolutamente rivisto ma c'è anche da dire che si è molto generalizzato negli ultimi tempi. Io penso che le inchieste della magistratura siano sempre assolutamente legittime penso anche che il tiro a bersaglio non sia la cosa giusta in questo particolare momento storico.